che sia costante oh mamma mia piocchettini carini di Jojo Siwa cucchiaino piccolino come crino eeeh cosa sta uscendo qui eeeh come puzza sta colla Yolanda Sweet hello everyone rieccomi tornata con un nuovo video buona domenica come state spero tutto bene come avete passato questa giornata spero bene allora ragazzi oggi sono tornata con un nuovo video dove provo questo kit costoso comprato da Amazon della Nickelodeon originale di Jojo Siwa come l'altra volta che ho aperto gli slime di Jojo Siwa vediamo questa volta il kit di slime ideato da lei come sarà? ma prima di iniziare questo video vi invito a mettere un bellissimo mi piace se vi piacciono questi video e di iscrivervi al canale mi raccomando attivando la campanella vicino al tastino ovviamente iscriviti perché tutti i giorni carico i video ma prima di iniziare ufficialmente il video facciamo un giochino ora voi dovete indovinare un'immagine che mi metto qua tutta sfogata ok e voi dovete indovinare cosa si nasconde sotto questa immagine vediamo questo kit mi sembra che sia costato oh mamma mia adoro raga e pure la macchina fotografica faccio volare ok qua ci sono le istruzioni vedete per fare lo slime e dietro ci sono varie cose e abbiamo anche il fiocco di jojo siwa originale bow sparkles rainbow c'è uno charm del cagnolino di jojo siwa glitter bling vediamo include everything you need ossia tutto quello di cui tu hai bisogno per fare uno slime ora lo constatiamo allora cosa abbiamo qui mamma mia sporco abbiamo l'attivatore white slime glue quindi colla bianca e colla trasparente della nickelodeon poi abbiamo wow ve le ricordate i fiocchettini carini di jojo siwa bene sono ritornati i fiocchettini carini di jojo siwa e questa volta non abbiamo le faccine a patatine ma abbiamo le zampettine di cagnolino molto carine vediamo prima i glitter come sono abbiamo le zampettine del cagnolino questi strass che belli questi due glitter azzurro e viola calino tutti scintillati spatolina ciotolina varie ciotoline per metterci lo slime dentro con i coperchi questo ci piace poi abbiamo il fiocchetto di jojo siwa è tipo una palette che carina per fare il rainbow e lo slime azzurro del cagnolino e abbiamo uno charm del cagnolino di jojo siwa quanto è carino e i vari colori messi qua dentro facciamo per primo quello rainbow nuovo facciamo per primo quello là trasparente dove andremo a mettere i glitter azzurri dedicati al cagnolino di jojo siwa e le zampettine azzurre vediamo cosa esce apriamo la colla clear com'è densa questa colla ma è un po' gialla o mi sbaglio voi non lo vedete ma dalla telecamera è molto gialla molto molto gialla allora prendiamo questo cucchiaino piccolino com'è carino prendiamo un po' di azzurro o di blu in questo caso ne prelevo pochissimo e lo vado ad aggiungere all'interno della colla stessa come puzza sta colla vi volevo dire che domani ragazzi uscirà sul mio canale un video di lifehack quindi non lo perdete in più sul mio sito che è www.jolandaswitz.it ieri sono usciti dei nuovi slime quindi andate a vedere sul mio sito perché ci sono dei nuovi slime bellissimi vi lascio il video qua ok allora aggiungiamo i glitter i glitter azzurri come c'è nella foto perché ci sono i glitter azzurri e poi le zampine di cagnolino ma le zampine le aggiungo dopo dopo aver mescolato tutto ben bene 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 prendiamo l'attivatore e lo vado a mettere poche gocce eh ti pareva che non fosse chiuso mettiamo poche goccine alla volta in modo a far formare questo slime chi lo sa se sarà jiggly oppure no secondo voi ora sondaggino bloccate il video prima di vederlo tutto non vedete come esce ma rispondetemi prima secondo voi questo slime uscirà bello o uscirà brutto uscirà jiggly oppure no ok modelliamo con le mani e vediamo cosa esce modelliamo con le mani uuuu attenzione attenzione ragazzi wow devo dire che la situazione non è affatto male qui eh attenzione questa colla è davvero bella molto densa molto thick wow la situazione mi gusta mi gusta sì la situazione molto bella ok bellina la colla è venuta veramente molto bene densa ma allo stesso tempo veramente molto elastica e andiamo a mettere le zampine wow 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 del cagnolino di Jojo Siwa dentro wow è venuto molto carino devo dire mi piace tantissimo è anche già abbastanza clear diciamo che la colla non è molto arieggiata quindi non ha preso tante bollicine ed è morbido elastico bello non è venuto gigli ragazzi quindi ha scritto che veniva gigli ha perso ok lo mettiamo qua ecco vedete ho fatto troppa colla carino è venuto veramente molto molto carino adesso come sta nella foto della scatola andiamo a fare dall'altra parte invece lo slime rainbow quindi ci dobbiamo mettere tutti i colori che stanno qua dentro ok chiudiamo il fiocchetto di Jojo Siwa e andiamo a creare lo slime rainbow per primo dobbiamo andare a realizzare uno slime base con la colla vinilica vai non ho fatto troppo ne ho fatto troppo vabbè andiamo a riporre che dite secondo voi ci entra uh anche questa colla qui vinilica sembra ecco un pasticcio no sembra molto densa è già molto gloss vediamo come viene addensata puzza tantissimo anche questa vi devo dire la verità però vediamo come viene cosa sta uscendo qui devo dire che non è per niente male anche questa colla ragazzi niente male niente male lo vado a dividere nei vari colori anche se non lo faccio cosa c'è il giallo il viola l'azzurro allora lo devo dividere proprio in piccoli pezzettini piccoli piccoli allora ho fatto devo dire che i colori sono di molto più chiari però pazienza vabbè sti cavoletti comunque è un rainbow diciamo pezzotto però ci piace allora mettiamo così mi piace comunque oh carino dai dai facciamo così one two bellino dai raga guardate mi piace facciamo in questo modo facciamo in questo modo qua c'è un pelo oh mio dio carino guardate che bellino lo andiamo a mettere nel nel suo rainbow qua nel suo bow bellino anche così mi piace davvero tantissimo mettiamoci sopra nonostante tutto i glitter questi qua azzurri che mi piacciono parecchio e voilà abbiamo fatto il primo slime di Jojo Siwa all'interno del suo fiocco questo mi piace tantissimo oddio qua cade tutto adesso andiamo a realizzare qua dentro voglio farlo rosa lo slime e vi posso dire la verità vado a prendere la misura all'interno di questi contenitori qui che sono da 2 oz non ne faccio tantissimo lo andiamo ad addensare quindi addensiamo lo slime quello clear vi devo dire la verità si addensa meglio rispetto a quello vinilico allora questi coloranti mi hanno sporcato tutte le mani però lo slime praticamente sta venendo io vado a mettere già il colore vi devo dire la verità ne metto un po' mamma mia perché devo sempre fare dei casini meglio spiegate il colore però è completamente diverso da come si vede sulla scatola non lo so è un po' differente però mi piace la colla trasparente devo dire che è la mia preferita mi piace molto di più ragazzi ho cambiato idea penso che vado a fare questo è un altro slime ossia questo qua e quello viola così almeno vado a mettere i glitter viola e anche i brillantini dentro quello viola anche perché qua già ci mettiamo i fiocchettini di Jojo Siva quindi mi sa che è meglio non abbondare troppo di roba ok che bellino anche se è molto appiccicaticcio però è carino no vabbè ragazzi la colla trasparente mi piace tantissimo è venuta molto bene veramente carina apriamo i fiocchetti di Jojo Siva e ce li mettiamo abbondiamo con i fiocchetti i fiocchetti ci piacciono eccoli qua carini i fiocchettini di Jojo Siva bellini ah ci stava il cagnolino ce lo siamo dimenticato diciamo una cosa la mettiamo qua carini lo mettiamo nel contenitore un po' appiccicoso ancora però vabbè sti cavoletti ok lo mettiamo così ci mettiamo altri fiocchettini sopra e mettiamo il cagnolino di Jojo Siva sopra eccolo carinissimo e ovviamente andiamo a coprire con il tappo così così lo slime non si secca adesso facciamo l'ultimo sinceramente lo vado a fare direttamente qua dentro anche perché di colla non ne ho tantissima di quella trasparente andiamo a fare quello viola wow guys mi piace carino però però devo dire che messo nella colla così è un po' stranuccio mettiamoci per un po' di contrasto sapete cosa anche un po' di rosa così viene guardate molto più carino così mi piace mettiamoci glitter mamma mia come sono belli questi ci vado già a mettere i glitter dentro così e vado a mescolare carino adesso questo qua ovviamente lo dobbiamo andare ad addensare voilà guys slime riuscito molto morbido ed elastico devo ammettere ci mettiamo questi brillocchi all'interno mamma mia che belle wow ma che meraviglia ragazzi che meraviglia queste paillettine tutte messe all'interno tutte sbrillucicose guardate io ho detto questo secondo me sarà una cosa epic fail alla grande fallimentare non viene niente ed invece mi sono sporcata tutte le mani vabbè è un classico voi mi conoscete bene ma è venuto tutto ragazzi sono felicissima è una consistenza questo è il più bello di tutti basta ok grazie mille a tutti per aver visto questo video spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto pollice in su mi raccomando io vi mando un bacio e un abbraccio vi voglio bene come sempre ci vediamo domani alle 14.30 con un nuovissimo video bye